qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione mio padre ha detto che qui c'era una porta per devo consegnarne messerati traditore e perché quelle spade non dovreste arrestarmi no che volete non fatelo scappare il demonio ti aspetta che muoia beh, questo non accarrà quindi perché non cerchiamo delle alternative non ci... sta scappando, fermatelo fermatelo non fatelo scappare va l'assassino guardia, guardie Agna Dio, ti prego lascia vivere Dio, dite! Dio, dite! abbarcazioni ora! guardatelo finirà in un si romperà in seguitelo tu, tu, tu ti aspetta la morte è lunga è d'oro rosa giù prendetelo è sparito là non fatevelo scappare il vostro nobile gira ci ha reso la speranza Lasciatemi in pace, lasciatemi in pace! Ezio, auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io... io non... Aspetta, prendi fiato. Riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah. Ora capisco. C'è stato un malinteso, Ezio. Rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza. e saranno liberati. Vi ringrazio, signore. Di nulla, figlio mio. Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio.